meno male se l'ho detto facciamo una roba facile queste sono le antenne sono le antenne Grazie a tutti. 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 Dove va? Aspetta, mi riposo. Oh, come on yara. Eh, mi sono ribaltato. Vai, vai, esce. Che si fa? Si riporta da? Che si fa? La tiri su di lì? Dai, vai, vai, esce. Non mi riesce. Non mi riesce. Non mi riesce, no. Non mi riesce, no. Non mi riesce, no. No, no, no. No, 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 no.